Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova video visita. Oggi vedremo insieme l'appartamento in rosa il nostro riferimento 1414. Approfittiamo dell'arrivo della primavera di questa bella giornata soleggiata perché come vedremo il punto forte di questo appartamento è proprio il grande giardino. Ma come al solito prima voglio mostrarvi grazie alle grafiche che ci viene in aiuto la posizione. Siamo via Papri in zona molto tranquilla e residenziale. In pochi minuti raggiungiamo i servizi principali del paese come supermercati, uffici comunali, farmacie, scuole o stazioni. Ok, adesso avventriamoci nell'appartamento. Come vi avevo preannunciato la prima cosa che balza all'occhio è il grande giardino privato e come possiamo vedere non si affaccia direttamente sulla strada per avere più tranquillità possibile. Sono circa 120 metri quadri e anche una zona meno visibile ma utile come parcheggio per stendere i panni o cimentarsi in qualche lavoretto artigianale all'esterno. Ma prima di entrare voglio evidenziare ancora le grandi comodità dell'appartamento. Siamo completamente a piano terra. Quindi niente scale, proprio quello che ci vuole quando gli acciacchi dell'età cominciano a farsi sentire. Poi è indispensabile se avete un nuovo primo avviso animale. Abbastanza spazio recintato e soprattutto facilmente accessibile. Bene, eccoci, ora siamo entrati. Questa è ovviamente la zona giorno. Sala, prazzo e cucinotto finestrato. Tra l'altro, la cucina potrebbe anche rimanere se interessati. Ora andiamo nella zona notte. Questa è la matrimoniale e ne approfitto per qualche precisazione. Tutte le finestre hanno zanzarie ed inferiati e questa stanza, essendo a nord, è stata rivestita con un termocappotto. Così da limitare escursioni termiche che non saranno mai buone. Questo è lo studio. Molto raccordo, vero? Ma come potete intuire dalla pittura sui muri e grazie all'ingegnosità di noti mobilifici nordici, è possibile utilizzarlo tranquillamente come cameretta singola. Ovviamente non può mancare il bagno. E questo è il garage, indispensabile come servizio, anche perché è molto ampio e completato dall'angolo lavanderia. Ma soprattutto è comunicante con il resto dell'appartamento, quindi eventualmente lo si potrebbe utilizzare anche per altre destinazioni. Per visionare tutte le foto e avere le informazioni relative, cliccate sul link in alto se siete su Facebook o in basso se siete su YouTube. Oppure andate al nostro sito www.agenziacontarini.it e cercate il riferimento 1414. Allora, se vi è piaciuto l'appartamento in rosa mettete un like e contattateci con email, chiamata video o telefonica. Vi ricordo che tutti i nostri immobili sono sul sito www.agenziacontarini.it e sui 15 principali portali immobiliari italiani. Che le nostre video visite sono su YouTube, nel canale Agenzia Contarini e potete seguirci nella pagina Facebook o nel profilo Instagram Agenzia Contarini. Bene, infine voglio ricordarvi che se volete vendere casa potete contattarci per avere il vostro piano marketing personalizzato con valutazione gratuita al prezzo consigliato. Se invece cercate casa potete contattarci per avere un report di acquisto al prezzo consigliato e il vostro piano cerco casa. Ciao a tutti! Grazie! 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 Grazie!